Che va a fare? Uomini e donne, rivolta sul web, la scelta di Maria non piace Maria De Filippi protagonista di recenti polemiche sul web, la scelta che indigna il pubblico. La trasmissione pomeridiana di Cancelletto Maria De Filippi è sempre più discussa dal pubblico di Canale 5 che quotidianamente segue le puntate settimanali di Cancelletto Uomini e donne Con i suoi due troni, il trono classico e il trono over, il people show sorprende e incuriosisce un gran numero di telespettatori ma tra questi ultimi vi sono anche coloro i quali commentano, in modo negativo, le varie vicende che non piacciono o addirittura deludono E questo che sta accadendo nel corso delle ultime puntate della trasmissione e che sta facendo fortemente discutere il pubblico, scopriamone di più! Uomini e donne news, il pubblico contro Maria De Filippi Si parla del trono over che vede introdotto in studio un nuovo personaggio, parliamo di Domenico Domenico, nuovo cavaliere del trono dei senior, sta facendo discutere i telespettatori i quali, addirittura, si sarebbero posti in una posizione che va contro a quella della conduttrice, per quale motivo? Da varie puntate, il nuovo cavaliere viene costantemente messo al centro dellattenzione dalla stessa presentatrice Questa volta, però, la situazione sarebbe sfuggita di mano e a far discutere il pubblico è stato l'atteggiamento dell'uomo nel corso della puntata trasmessa ieri, giovedì 8 marzo Come già saprete, Domenico ha avviato in studio un improvviso teatrino in cui ha strappato più di un bacio alla famosa dama del programma, Gemma Galgani, e non solo, anche Tina Cipollari è stata presa alla sprovvista e baciata in modo molto passionale dal cavaliere Come abbiamo avuto modo di evincere dalle loro espressioni, questo gesto non è stato affatto apprezzato dalle due donne le quali, al contrario, si sono dimostrate abbastanza infastidite Ma nel mentre dell'accaduto quale è stata la reazione della De Filippi? Possiamo considerarla nulla in quanto la moglie di Maurizio Costanzo non ha affatto cercato di stanziare Domenico da Gemma e Tina restando a guardare dal suo posto e, inoltre, apparendo molto divertita dalle dinamiche create in puntata Questo comportamento non è piaciuto affatto al pubblico il quale, in seguito alla seguente puntata, sta fortemente discutendo sulla scelta di Maria di dare spazio a Domenico e permettergli di mettere in mostra tutti i suoi teatrini E voi, invece, cosa ne pensate a riguardo? Siete con o contro ciò che sta accadendo nello studio di uomini e donne nel corso delle registrazioni del Trono Over? Cancelletto gossip